ok raga missione esamina forzieri di shield nel queen jet che sarebbe questo sono ieri con i droni praticamente la missione è quella di andare all'aereo e aprire il forzieri che si trova all'interno ovviamente non si fa in una partita perché sono valide aprire si va ad aprire questo aereo questo aereo questa cassa fino al completamento della missione Ok. vienerà per gli svariati quindi non si farà in una partita sola ma è una missione abbastanza semplice mi sono scordato di dirvi non fatele risa squadre perché le risa squadre non spavano i bauli quindi fatela in singolo in coppia squad insomma bella ragazzi grazie